Questa è una coreografia che io avevo dentro da tanto tempo. Abbiamo una passione che ci accomuna da tanti anni. Ci siamo ritrovati e abbiamo deciso. Abbiamo fatto questo gruppo per specifici. Esatto, quindi abbiamo una grande responsabilità. No, in realtà ci piace un sacco questo evento, quindi veniamo a supportare comunque. Comunque Vada, noi siamo felici di essere qua. Penso che ci piace di più. È una scelta di cuore. Sì. Mettiamola così. Cuore, di mangiare. Pagliamo tutti quanti insieme. Abbiamo l'età. Noi rifacciamo quasi sempre i video su quel tetto. La voglia di condividere la passione per questa musica. La Rosalia mi dice che lui è kuai. La Rosalia. Non te lo niego perché io se lo che hai. Lo che si vede non si pregunte. Se tu spero e ti tengo chiaro che è mi culpa. È mi culpa, culpa. È una via di fuga fortissima. Ci insegna a guardare il mondo da un'altra prospettiva. Ci dà la possibilità di uscire da un contesto culturale a parere nostro troppo restrittivo. E' un po' di cacchina. Dobbiamo, 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 dobbiamo concretizzare ancora. Adesso ho un po' sostenito di morale. So quello che quando fanno una figura di merda le riprende. L'ora un po' meno. Sicuramente siamo cariche perché siamo noi stesse. Per cui vedrete tutta la nostra vita dall'inizio. Siamo un teatro. La prima competizione abbiamo formato la crew in pochissimo tempo. Sono emozionata, speriamo che mi capiti una dancing tour che conosco. Sono innamorata di questo stile e poi ho deciso di coltivare questa mia passione. Mi sento me stessa quando faccio un po' così. Sono molto felice di aver portato un pezzo di Napoli qua. Diciamo loro, rappresentano il mio primo gruppo proprio ufficiale che voglio spingere e portare in giro. Alla la noche rompiamo. Al otro dia volvemo. Tu sabes como lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, the night's like fuego. We're about to spend the dinero. We're about to the extremo, 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 extremo. Ritmo.